Una rara cometa verde che non si vedeva da 50.000 anni passerà a breve sopra la Terra e sarà visibile nel cielo per circa un mese. La NASA afferma che la cometa sia stata già avvistata nel marzo del 2022 all'interno dell'orbita di Giove. Gli scienziati sostengono che nei prossimi giorni la cometa si sposterà verso nord-ovest sull'orizzonte, e che tra l'1 e il 2 febbraio sarà molto più visibile, perché raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra. A causa delle sue code striate di polvere e particelle, e alla sua chioma verde brillante, sarà facile distinguerla dal resto delle stelle. Se vivi in una zona ad alto inquinamento luminoso, la cometa sarà troppo debole di luce per essere vista ad occhio nudo. Più la cometa si avvicina alla Terra, più la sua luce si diffonde. La soluzione migliore sarebbe cercare un'area con un cielo scuro e limpido, e evitare di usare telescopi o binocoli. I tuoi occhi dovrebbero bastare. Le comete, di norma, non sono facili da vedere, ma con la luce che emana questa, sarà molto semplice individuarla nel cielo. Facci sapere nei commenti se andrai ad osservare la cometa. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su e non dimenticare di iscriverti al canale.